Allora raghi! Allora dov'è il video? Non faccio la live per un giorno? Ciao! Allora ragazzi come state? Ma guarda che sono in live Sono in live Sei lì così te? Ciao Stream Elements! Ciao Sound Alerts! I capelli da paura di Marco... Loki! Guarda qua che capelli che ho amico mio Troppo caldo Si fa la doccia 10 minuti dopo si è come Come prima della doccia Tutti pezzati Guarda i capelli come sono Ciao mister amico mio Come stai? Vero Loki? Mamma mia che schifo Ho fatto la doccia La prossima volta non la faccio niente Ti smerdà Allora amico mio come stai? Che cosa è che è successo? Problemi noti? Ah! Ti fai Decry 2 Bello! Bello! Mico mio! Bello! 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 Ci sta! Ci sta! Bel giochino! Si! Io l'ho fatto tanto eh Tanto 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 A me piace un sacco 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 Mi ha fatto Ma che mi ha fatto Mi ha fatto Mi ha fatto Mi ha fatto Ma che mi ha fatto Mi ha fatto Ma che mi ha fatto Mi ha fatto Mi ha fatto Le barche Sono una rottura Allora Mi piaceva un sacco Il fattore Che tu da la barca L'aereo Passi mentre vai Quindi quello è una figata Però sinceramente Non A parte che adesso Ho avuto degli aggiornamenti Mica male eh Mica da ridere Penso che sia stato aggiornato Parecchio Come Come gioco Quindi probabilmente Magari è pure cambiato adesso E non avrei neanche lo spazio Proprio per installarlo In più Il Decru 1 L'avevo finito Mi mancava Solo dei trofei pazzeschi Che sono quelli tipo Eh vedi Eh infatti Infatti avevo visto Che c'era l'aggiornamento Mi mancano solo quelli tipo Presente Vabbè Il Decru 1 Il primo Decru e basta Che erano quelli Di fare le gare Con Da una all'altra Con Online Che dovevi arrivare Primo, secondo e terzo Che l'aveva fatto Ciro Francesco è un altro ragazzo E io quella sera lì Non c'ero Quindi non Non ho potuto platinarlo Era impossibile platinarlo Ehm Però diciamo che è molto bello Il discorso Di portarlo in live Io Spero che Ti funzioni Io Sto portando Gran Turismo Perché voglio fare La sfida Che mi ha detto Andrea Ehm Formula 1 Perché mi piace tanto Ah il primo non l'ha giocato Era molto bello Era molto bello Ehm Vabbè Il secondo Diciamo che è più bello Graficamente Rispetto al primo Chiaramente Perché Ehm Però Ho avuto un sacco di aggiornamenti E lo stanno supportando ancora Quindi vuol dire Che la community E il gioco comunque funziona Perché Tu conta che Per PlayStation Per PC No per PC In teoria c'è Per PlayStation Non c'è un gioco Come Come The Crew C'è solo The Crew Per tutte le console Che unisce tutti Perché Forza Horizon Della Xbox C'è solo la Xbox E Gran Turismo C'è la Gran Turismo Anche se sono due giochi un po' diversi Si avvicina un po' di più The Crew The Crew 2 Ehm Forza Motorsport Forza Horizon Della Xbox Piuttosto che Gran Turismo Non c'entra niente Vabbè Comunque adesso andiamo a correre Venite In Live I live Ho scritto Ciao Mitici Come state? Allora c'è qualcuno Che ha avuto la brillante idea Oltre gli aerei Di fare casino stasera Non so perché Ringraziamolo Ringraziamolo di cuore Ok Andiamo subito Condivido l'ultima su Telegram Ok Perfetto Perfetto Guys Condiviso dappertutto Allora Io volevo fare Tanto per scaldarmi Anzi Sai che cosa faccio? No Tanto per scaldarmi no Non so per quale motivo Quando si torna sulla schermata iniziale Ci metta tutto questo tempo adesso Problemi noti? Non lo so Vedi Quanto tempo ci mette Ciao ragazzi Come state amici? Ci mette davvero troppo tempo ragazzi Da parte online Stanno peggiorando la situazione? Io spero Spero di no Allora Allora Io volevo provare un attimino Se riusciamo Se riusciamo Se riusciamo a fare sta prova eh Allora C'è Di mezzo tre belle sub che mi deve fare l'amico Andrea Se faccio tutto oro Ok Quinta Terza 120 Terza Seconda Accelera tutto Ah ah tu driftia per tutto Quindi poi quarta Frena accelera tutto Quinta Quarta Quarta Terza Seconda Eh cazzarola Senza che la macchina va fuori Senza che Vabbè Proviamoci dai La mia macchina Non fa così Ah 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 La mia macchina fa... Però ho notato che non carica Ma ci sono dei problemi online raga Ciao Grandissimo Ah ah Grande Diego Amico mio Come stai? Allora Allora Sto provando a fare un po' di... Però chiaramente Chiaramente Bene bene Grandissimo Diego Bellari dai Sono contento che hai cambiato il... Come si dice Il... Il gruppo E... Vediamo dai Se riusciamo a fare qualche... Bella corsa insieme Se no sai che io sono sempre qua per te eh E per tutti voi ragazzi Eh si Eh si Eh si Ecco Eeeeeee Eeeeee Caspita Grande Rocky Beh era bello anche l'ichi Ah 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 ah... Sti correttori dei cellulari e degli iPhone e degli iPod ragazzi fanno proprio dei casini ok niente 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 dobbiamo proprio ripartire quasi dalle basi ragazzi qua allora ci abbatte prima di tutto perché mi scivolo piede mamma mia ragazzi che che caldo che fa non devo prendere i cordoli i cordoli sono assurdi con questa macchina e questo ha 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 lì insieme lì che è bello ma dai maestro driftatore lì chi lo ragazzi fa un caldo eccezionale un caldo veramente esagerato eh sì amico mio non ti girare cazzo di BMW 48 e 3 47 e 7 ho fatto ma io non so raga come come farò fare questo è proprio tosto mi sono in furtura davvero cos'è che è combinato al calcetto cacchio mi spiace Diego ma cos'è combinato ciao ragazzi come state mitici mitici e mitiche sai che facciamo un po' di scuola guida oggi cos'è combinato Diego hai fatto mano ai piedi il ginocchio oh porca vacca più grave ma come cazzo fate schiacciarti oh cacchio mi spiace Diego minchia addirittura ti ha schiacciato assurdo vabbè 47 8 non era male orca miseria chica mi poteva far male 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 forte ma porca miseria a me la gente che se non l'ha fatto apposta può capitare ma se l'hanno fatto apposta perché sono quelli che vogliono per forza vincere a me sta gente qua mi sta sui coglioni eh lo dico eh si è la botta la botta viene fuori sempre quando ci si rilassa ma porca miseria Diego ma va sta macchina che non sta dritta ragazzi mi svago un attimo perché è vero Loki cioè succede anche anche quando uno si deve divertire deve succedere sempre le cazzate mamma mia ragazzi mi sto fermo per un mese orca miseria eh se però ti fa male vai a farti una lastra qualcosa eh mica che il dottore si ok che c'ha ragione però ciao 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 che è mio oh ah no Sharder ciao Sharderino dove stai amico mio stavo dicendo stavo dicendo che Diego si è fatto male ieri a calcetto orca miseria mal di gambe amico mio anche te eh lavoro amico mio non mi fa male dappertutto ragazzi ieri sera scusatemi ma non sono proprio riuscito neanche a ero qui sul divano di fianco a guardarmi un film due ventilatori addosso è difficile anche proprio ragazzi con questo caldo sopportare una giornata di lavoro normale eh se beh io non sono fortunato però sono molto stanco infatti prima eh Loki andavo addirittura anche al in palestra non riesco più non riesco più non riesco più andare in palestra troppo caldo troppo ok che dentro c'è comunque l'aria condizionata non si sta male una volta che poi sei in ballo diciamo una volta che vai là le cose si fanno eh per l'amor di Dio però l'ho fermata un attimo adesso perché davvero troppo 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 eh ragazzi non riesco più a fare neanche la prima gala la prima curva incredibile incredibile Marco Dram Game Channel non riesce a fare il nurburgerino invece deve farlo perché l'amico Andrea gli deve fare tre sub se lo faccio tutto oro ciao amici ragazzi come state eh immagino 195 kg ti sono venuti addosso tu sei 45 amico ma dai ma che cazzo eh immagino immagino Diego dacchio è il doppio di te no in più quasi il triplo ma io mi dico ma non puoi andare a fare a fare che hai 95 kg con ma ma non so se non ti ho letto Diego se hai risposto o no all'occhi ma l'ha fatto apposta secondo te oppure è stato un non è non l'ha fatto apposta cioè se si è scivolato non l'ha ah ok ah ok ah ok almeno quello dai ah ok ok proprio è scivolato e ti è venuto addosso ciao ragazzi come state amici è un disastro stasera ah ok ok allora dai allora va bene va bene nel senso che che non l'ha fatto apposta ma non va bene perché stai male stai dentro sta cazzo di strada oh 47 6 31 raga dai ti prego fammi sto oro fammi sto ti prego non molare non molare mai no raga cioè ma devo proprio non può andarmi un po' di fortuna sono millesimi questi qua raga millesimi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Ecco là Ecco là Subito dopo Quando penso di aver capito Eh raga Quando penso di aver capito Faccio un burdel Mi sembra di essere andato fortissimo Bella lì Andrea Si sto provando Andrea Sono andato ancora un po' più vicino Sto cercando di far Scorrere sta macchina Grandissimo Dai vediamo se adesso sei entrato Ce la faccio a Perché ma perché ho fatto Quattro Quarantasette Sei tre Uno Andrea E adesso non ce la faccio Perché Loki Perché Diego Perché non ce la facciamo Perché non ce la fa Marco Dram Sa fare Sta benedetta Oro Eh Cioè Diego assurdo Ciao Andrea Grandissimo ragazzi Salutato Andrea Grande Andrea 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 Questa sfida Mi hai veramente messo alla prova Mi hai veramente messo alla prova Perché al nurburgerino Grande Mi hai veramente messo alla prova Mi hai messo alla prova Mi hai messo alla prova Mi hai messo alla prova Quarantasette Quarantasette nove E ottantadue Caspita E' sempre sul filo Dei Qualche errore Un Una qualche Curva Che non la faccio Ma non Sbagliata Raga Che non la faccio A velocità Giusta E' quasi impossibile E' peggio Che Che Allora L'amico Il tornantino Può essere La faccio Scorre Sta macchina Guarda 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 Come scorre Ha 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 Guarda come scorre Storottame Datemi un panda Ve la faccio In 42 Zero Tre Eh raga Datemi una panda E vedete voi Come la faccio La faccio Di traverso La faccio Altro che sta BMW Che non va Eh si O è questo Che lo prendo Troppo lento Questo Adesso L'ho preso Veloce In 30 secondi Esatto È vero È vero Ragazzi Sono d'accordo È vero È vero La fa in prima Ma la fa Ma quale seconda curva Questa Ho visto la cosa Dal 120 all'ora Amico mio Qua se non freno Va fuori E poi Se non freno Mi tende a andar via Guarda Qui adesso Tengo tutta Porca loca Non mi ricordavo più Che era quella lì Che devo girare di più Tu dici che frena troppo La seconda Ma ho visto La dimostrazione Fai 112 Andrei E poi tra l'altro C'ho ancora da vedere Il tuo Il tuo Video Ancora lì Proprio dove Hai sbagliato Devi andare dritto Ok Sì ma 631 Dai Cioè Poteva darmelo Buono Ok Terza Ok Facciamola scorrere 120 all'ora Preniamo un po' Seconda Apri Marco Apri drums Vai Siiii 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 Mi Pettino Andrea Hai visto che sei entrato Andrea Me l'hai fatto affare Grande Andrea Apriamo i coriandoli beviamo voglio godermela raga voglio godermela fatemi vedere che cosa ho combinato wow guarda che roba proprio lui un po' sul cordoletto lì allora io proverai ancora a farla un paio di volte tanto per non perché voglio migliorare anche se riesco è meglio ma più che altro per capire quando poi devo fare il giro completo qui l'ho presa a fuoco questa forse ho fatto bene questa ho fatto bene questa ho fatto bene il cordoletto cordolettante questa mi è piaciuta aspetta fammi vedere ancora fatemela vedere da dentro ma perché non lascia sempre le impostazioni stu cazzo allora quinta mi autoguardo è il king allora quinta ok terza 114 aperto tutto terza seconda gas 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 vieni mi amor guarda qui amor quarta piena raga quinta quarta ciao mio amor saluta i nostri amici c'è Andrea c'è Cialderino c'è Loki c'è Diego ciao amici ciao ciao a te e vai e vai eccola ah 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 grandi raga è arrivata è arrivata la Carlita Carlita puoi giocare assolutamente ci sta guarda mi amor che ti faccio un altro tempozzo in allora è arrivato Andrea sono riuscito a fare il mega tempozzo qua loro siamo a tre prima di un tre belle sub eccola là eccola là che è già sbagliata ciao è andata via è andata via ah 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 ma non fai neanche tempo a salutarla che è già andata il king grazie amico mio nooo stusce muni sta macchina a volte grande bronzo te ho fatto oro beggio abbeggio mio abbeggia macchinetta datemi un mano un panda vi sposterò il pianeta datemi un mano un panda e vi farò il giro veloce al nurburgrino charler vuoi giocare carla vuole giocare con voi loki andrea ha detto che c'è ma c'è non c'è poverino sarà stanchissimo deve farlo qualche qualche turno acqua frizzante aggressive mamma mia ragazzi non sono più capace è una botta di culo prima è stata incredibile incredibile per fortuna ce l'ho fatta adesso non c'è più andrea che viene dentro a dirmi cosa devo fare o non fare faccio 40 oh bronzo proprio una merdis 124 addirittura dai ciao Gianmarco amico mio ho fatto un oro ho appena fatto oro Gianmarco no cazzo eh sì no non eh magari mancano ancora tre niente ragazzi eh allora ancora tre tre ori per le sub vino mio però dai è un piccolo passo per un uomo è un grande passo per Marco Drums Games cena vieni mio amore è qua è qua sei tutta sudata mio amore ecco ho fatto di un attimo ah beh allora ok allora gioco ancora un po' un attimo io ragazzi poi facciamo la stanzettina eh Marco io mi devo lavare ma non lavarti stai con noi tutto bello spuzzolentoschi vai tranquillo va bene va bene amico mio mi raccomando attento alla schiena ti hai fatto male Diego poverino al calcetto hai ragione sì cosa ha scritto una notizia bella e brutta poi prima da un marco già marco dammi la brutta perché di solito le brutte notizie dopo arriva quella bella che brutta brutta prima qui ho fatto una magra una cagata sì non ti seguo no quella è bruttissima no non è questa ah ok non fai tutti scherzi perché lochi ha fatto una roba del genere ma vedi stavo facendo su un casino eh eh mi ha fatto uno scherzo con lo zio Mario stavo no lochi capisco che le problematiche della vita uno può anche non seguire più lo youtuber preferito invece si sta a pia per culo eh lochi ah 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 tu pigiama party ciao amici e amiche di twitch come state ragazzi e ragazze 472 472 472 472 47 ragazzi in filo per tre con il resto di due ciao deciso sei entrato tu deciso e ti ho piantato qua un 472 43 deciso come stai allora Gianmarco ha detto che va a un pigiama party non c'è domani domani che è venerdì come va Marco da un po' è vero deciso è un botto che non entri tutto bene tutto bene grande 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 Gianmarco tutto bene deciso io sono sempre qua ragazzi a parte ieri sera a parte ieri sera che non ce la facevo proprio streamare ragazzi ciao allora quando voi arrivate non vedete Marco eccola qui Olli quando vedete che non c'è Marco Drams in live vuol dire che Marco Drams è sdraiato sul divano tipo catatonico tipo che non si può alzare perché con due ventilatori uno sotto e uno sopra sto moriendo se no Marco Drams c'è sempre quindi deciso grazie che sei venuto Loki a prendere il furgoncino nel drift faccio la livrea grande problemi scolastici eh porca miseria deciso dai l'importante è che sistemi tutto va tutto bene grandissimo eh dai 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 mi raccomando amico mio poi comunque se volete anche solo passare per salutare io vi tiro su di morale ok ragazzi dai dai cercherò sempre di darvi un input un input a tutti oh raga guarda qui Quintus 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 non è malvagio ragazzi eh in questa estate entro sempre grande deciso mi dai la quina amore mia moglie mi prende le cose le porta nella parte più lontana del pianeta da me pure sugli altri giochi grande amigas lasciarticela con te si si dopo vado a farla ma si la fai dopo fammi fare l'ultima prova eh beh ciccia qui stiamo facendo show the show business the show must go on the show best bla 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 ci mettiamo le parole inglesi sempre così fa più audience il canale e guarda e guarda drums che ha sbagliato e guarda drums che non rifarà mai più 47 2 e 43 cose che ragazzi credevo non non possibili fare da marco drums games eh devo riuscire eh perché era davvero difficile sta prova bisogna capire l'input come dice Andrea questa macchina va fatta va fatta scivolare deve mettere un'area condizionata prendiamo l'area il non risponderti vuol dire no o eh la capiamo che poi l'area condizionata mi fa venire male alla schiena alle tonzelle mamma mia allora questa qui se si prende sbagliata ti butta fuori ti butta fuori completamente dai ragazzi grande eh non lo so non lo so non lo so ho deciso sinceramente ho già dato per sto pezzo di pista forse il top che posso eh stu stu pezzo di pista ah hai ragione hai ragione ma vado a te che me lo so scordato hai ragione hai ragione ragazzi eh eh è grande andrea grande andrea che ve l'ha detto lochi ci è entrato deciso grandissimo deciso stavo qui ma sembra che lochi ti ha salutato eh non c'è allora ai 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 caramba si è non c'è comunque andrea mettere che freno al posteriore allora può essere che sto dicendo una stupidata o può essere che sto dicendo una cosa cambia il modo di frenare proprio ciao Carlita ciao amico mio stavi bene dai quando vuoi passa che sono qui eh ok sono qui ciao deciso ciao amico mio orca roca ciao 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 amico mio ciao stavi bene mi raccomando quando vuoi passa dentro che fa sempre piacere eh averti in lives ciao amico mio dio mio dio mio dio mio dio usciamo subito da qua ho fatto una cacata vabbè quinto direi che ci siamo eh guarda qui guarda qui si avvicina sempre di più deve essere più delicato con freno tu dici che è in chiodo eh e perché è in chiodo andrea mi viene da che va troppo veloce boom e butto giù tutto il freno oh mio dio ciao amici e amiche di Twitch come state Marco Dransgames Bragali più allora l'amico Andrea mi dice che devo star più tranquillino col frenino eh ok la facciamo correre sta bambolina qui penso di aver sbagliato di brutto eh però ah questo è il punto quella tutta in terza no forse no 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 questa ah me la ricordo questa bravo poi lascia in terza in quella curva di salita ok grande Gian Marco allora devo prima di tutto questa macchina non frenare tanto vediamo se riusciamo a farla in terza si riusciamo ok non ti imbarcare forse non devo scalare in seconda devo scalare in seconda quella Andrea secondo te tutto in terza perfetto amico 366 una cacchina una cacchina di topolino è un po' sei bella mio amore a fuoco fuoco e fiamme fuoco e fiamme c'era un film una volta che era così decry forse cosa dice cosa dice forse perché diceva di buttare quarta e terza subito ciao vertex è entrato vertex ho fatto già un bel record grandi dovete entrare ragazzi dovete entrare nella live quando c'è un sacco di gente vado forte dai vediamo se riusciamo a fare qualcosa no ragazzi 35 ma siamo seri 35 0 91 per 91 millesimi ma va vertex sto gioco mi sta tirando scemo bella lì vertex grandissimo come state ragazzi sto cercando di fare i temposi eh vertex ciao carla ciao ma va quel paese ma cos'è che mi ha preso dentro che mi ha mi ha sbiferato dappertutto grande vertex non lo so non so poi andiamo a vedere se ci sono filmati se ci sono libri mi amor si penso che lui ciao scali troppo allo ok 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 va sto scemonito va sto scemonito nooo una merda 35 0 91 ho fatto prima ma sempre mi deve far morire sto gioco cioè ci sono 50 volte per farlo santa pazienza e adesso andrò fuori exactly ciao amici amiche di fragali e marco drums no scusate l'ho invertito l'ho invertito l'ho invertito ce la faccio ce la faccio e invece no a volte sbaglio in certi punti raga che non faccio più sti sbagli no e calla adesso ho disimparato come si fa la prima chill out chill out chill out ragazzi qui marco drums games è international ma dai più stretto ma te che la suona andrea ma non riesco più a farla prima ho fatto 35 091 ciao amici come state miei amici amiche di twitch iscrivetevi al canale dai ragazzi un solo follower arriviamo a 610 dai 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 come è il mercato dai 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 forza ah ok io invece lo facevo perché pensavo che andavo più veloce non ce l'ho fatta raga Sara non venire a dirmi che devo guardare la scuola guida scemonita ma pensa testa Sara viene a dirmi non ti vuoi vedere il video dimostrativo eh perché sta dicendo che sto facendo schifo eh un po' sì oh questo sembra da panico eh panico panico paura ma dai ma era perfetta no la mia moglie dice no Andrea cosa dice era perfetta o c'era qualche sbavatura madonna non devi prendere il colpo eh non l'ho preso eh questa voglio farla veloce però quando vado così va fuori ciao ragazzi amici e amiche Marco Drans Games niente ah ok ok non ho capito niente si ho capito eh ma come fai non ah ok va bene la faccio scivolare ok non accelero proviamo proviamo eh ma niente freno amico mio è un po' troppo veloce eh no non sono un po' troppo veloci no per proprio niente freno non so mi sembra un po' fidati fai quarta terza sull'area di frenata quarta terza eh no no lo so proviamo proviamo amico mio ciao amici amiche di Twitch come state eccolo eh ma mi va fuori ciao ragazzi Marco Drans Games e Bragali TV no in realtà è diverso ah 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 non mi viene Andrea così come mai come mai sono arrivato a 91 millesimi e adesso non riesco a fare si accelera quando sei dritto ok madonna che disastro charder crea la stanza e crea con la pista che vuoi mio amore ah no ho sbagliato era quarta terza ho sbagliato Andrea cazzo va tutto storto che si sbifora madonna raga cioè ho fatto 35.091 adesso faccio bronzo sbifora sbifora mio amore sì assolutamente Marco Drans Games invento faccio quello che voglio io io faccio quarta terza ma non riesco a capire amico mio togliendo anche ancora su sta pista eh sì adesso adesso charder quando fa la stanza andiamo a fare un po' di online amico con scharder lock chi vuole entrare vertex c'è ah Andrea ok 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 75.09 dai rifamo charderino hai fatto la la lobby e non sta scrivendo più ho paura che sia andato a mangiare lo so accelera solo quando esci dalla curva proviamo capuzola una volta che fa cose strane sta macchina non so se la macchina sono io ma qualcuno fa cose strane e tutte se la macchina si 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 te caputo il telefono e anche lui controlla trazione 1 no senza controllo trazione amico mio mi mi tiro scemo da solo adesso vado avanti fin quando shardino fa la lobby da mo eh lo so andrea che tu l'hai disattivato si shard ha detto un attimino che faccia la lobby però se ciao amici e amiche di twitch e benvenuti andiamo a fare questa è scuola guida è scuola guida un po di scuola guidina adesso andiamo a fare l'online con l'amico sharder lochi e chi vuol venire può farlo eh ciao amico mio ciao 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 diego scivolare scivola scivola passa la cera togli la cera scivola cera madonna sempre peggio avevo quasi fatto l'oro raga no no sapete cosa mi ha detto una volta uno se carica perché oggi non vuole caricare a ok sapete che mi sa che ci sono problemi online e mi sa di sì vabbè fai il nurburgery senza sì perché dragon trail anche prima ragazzi mi dava veramente problemi eh a caricare penso che ci sono problemi online avete sentito eh in inglese sì esatto vediamo inglese eh non carica la schermata sì esatto Gianmarco esattamente uguali sembra che li fanno con lo stampino sti giochi sti scemo uniti cioè ma io non lo so ma la gente ti paga 10 euro per comprare il gioco al day one eh cioè io non lo so no mio amore è come quando tu vai a farti le unghie e tutto il resto non mi dici mai è sempre giusta perché poi beh con gli scontrini e non è mai quella che mi dici quindi è bella buttali però ah 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 non so di fa marco tra dai allora visto che c'è del rino non riesce a fare la lobby e faccio due di numero e poi vai amo poi guidi tu come non giochi tu già mi scusa mi mi hai va bene ma fai un paio di giri per la città eh sì c'è problemi online chard no non è proprio niente faccio poco porca loca raga come faccio a farla amici miei freno troppo in anticipo 130 130 sì ma solo togliere il gas a me va fuori perché va fuori andrea cioè perché io togliendo il gas a me la macchina va fuori mi sbifora mi sbifora ok qua lui tranquillo sereno 130 118 è già io io non capisco cazzo 130 cielo porca loca ho sbagliato che ho accelerato troppo non ho fatto giusto il devo cambiare in terza quando sei in curva dritto allora qua eh vabbè ragazza eh cosa ha detto la prima curva no 130 devo prendere questa alla prima ok 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 la prima non prima di terza no ma voleva con gli altri da mamma il micro anche ora metti la terza prestissimo porca miseria amico mio mi sta andando il papa cervello allora qui ok qua ok 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 vedi se non freno io non riesco a capire perché sia il coso che perché eh perché me va fuori capito andrea allora la terza la metto qua ok 130 ci sta eh ho capito che devo farla scivolare ma non capisco come farla scivolare cioè nel senso adesso è andata no anche qui probabilmente devo eh oh in quarta l'ho fatta niente in quarta l'ho fatta non mi sono accorto che ero in quarta porca loca ora vediamo un attimo facciamo scivolare sta maga la macchina deve scivolare punto ecco ecco che disastro ma perchè quando accelero il coso a me va fuori tutta che la demo invece facciamo scivolare sta macchina e secondo me si, non bisogna prendere tutto quel cordolo però a me non sta un disastro proprio eh la salita se no possibilmente ok ok allora 125 non è male ok, qua mi si sbifora tutta adesso sono dritto 130 si ho preso un po' il cordolo è vero effettivamente, un pelino di cordolo l'ho preso dai credevo di averlo stavolta ma perchè dai dai che facciamo adesso viene Carla ragazzi un oro a sera un oro a sera ma ti voglio vedere che è andata di traverso diciamo fammi capire nooo ha sbiforato la macchina ha sbiforato è vero Gianmarco è vero Gianmarco è vero Gianmarco amore mio troppo prima sto facendo il solito errore anche qui anche qui ho accelerato un pelo troppo più eh m6 la BMW è tosta la tenere strada c'è posteriore eh perchè sono le prove devi farla proprio con quella non puoi prendere un'altra macchina devi fare questa pista con questa macchina magari con un'altra vado da dio questa è un casino ed è un casino per me Andrea ciao amici amiche grandissimi nooo credevo di averlo fatto un attimino mangia tu adesso poi quando vedi di mangiare ah addirittura Marco Dranz Games Channel ragazzi si guarda mangiando i popi corn come se fosse al cinema raga cosa ha scritto? ho usato meglio il latte di caffè eh ho usato meglio ne? però ci siamo ancora non ci siamo proprio ancora l'ultima ancora pettine verde pettine verde pettine verde eccolo qua pettino vuoi anche tu mio amor? no facciamo il pettino che a lei perché perché Andrea sono così scarso 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 nooo difficili spry questa è molto più difficile di quella che ho fatto per fare il trofeo vedi qua che stronza se c'è prima ciao amici e amiche dai iscrivetevi al canale grandissimi che arriviamo a 610 follower dai è proprio un casino è proprio un casino fatemi vedere perché poi devono anche dare a vedere il giro che ha fatto l'amico Andrea eh che ha fatto terza qua 130 vedi lui ah no ha frenato lui gli si sbifora anche va neanche freda si accelera quando è quando è dritto eh ma quando lo faccio io non raggiungo non raggiungo i tempi non raggiungo i tempi non sbiforano di un po' ma è così per portarlo non la vai 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 no a me si è come andò a un paio di artigione domani la mamma prepara la valigia che disastro farà solo quello che deve portare non la vai non la vai no non non no non non è dai 35 3 ma non riesco a migliorarmi andrea dai l'ultima raga sennò poi diventa noioso vero non hai capito fatto visto che richiedono un po la porta no porca loca basta 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 l'ultimo ultimo l'ultimo andrea l'ultimo tentativo ciao amici e amiche di twitch come state no è cagare ho mai fatto niente qua c'è ma è possibile dici è andata la concentration ragazzi dobbiamo cambiare pista a me sembra di farlo sempre uguale ciao amici e amiche di twitch benvenuti ragazzi e ragazze Mila non ti permetteителя c'è un prezzo викона siiii Gianmarco, Lougham, Charlie, Carla grazie a Dio, Andrea basta e Sì, ma hai finito tutti i popi, eh? Dai, un grande passo per l'uomo, un piccolo passo per Marco Drams, che è in generale, tre sub, tre sub! Grazie San Marco, grazie Andrea! Grazie, grazie Sharder! Cos'è sto schifo? Ragazzi, grazie! Ora, ora, ora già Marco, ora, ora non si scherza, ragazzi, eh? Vienta sempre, sempre più vicino il momento incredibile di avere il treno in Samba del grazie, del grazie, amico Andrea! Bella, bella, basta! Guardate, non funziona niente, ragazzi, eh? Guarda che roba! La situazione Sharder! Uh, ragazzi! Anche... Eh, eh, devo finire tutto, amico mio! Guarda, Vertex, Corallo, Andrea e io, subito dopo l'amico Andrea! Ho passato Zubi tutto, ho passato Gepi, ho passato tanti! Bella! Allora, adesso Gianmarco, vedi, questo era tutto bronzo, adesso pian pianino li sto facendo tutti! C'è solo da fare questo oro, che è tutto il giro, eh, lì bisogna ricordarselo tutto! E questo, che vi faccio vedere solo adesso, però poi corriamo, perché... Se no poi diventa... Magari noi sono... Magari metti per botta di culo che riusciamo a fare là, subito, eh! Tipo così! Sì! 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 Tutto terza è! Qua sta di tenso! Sì! Sì! Praticamente sì! Ah! Devo frenare! Ecco, l'automatico è sì! Eccolo automatico è sì! Sì! Ah! Ah! E io? Non c'è? Bene! Non c'è? Bene! Tu rimani! Eh! Cosa faccio? Mi spacco i denti! La prima parte è per andare in quarta delle quale quarta, quando sale in quarta... Ah! Ok! La prima è tutta quarta ha detto? Ok! Ok! La quarta è tutta in quarta! Ok! Pezzo qua! La terza va in terza! Quindi qui la quarta! Quindi si può fare la quarta! Quindi qua già terza! Quindi da qua terza! Eh! Amico mio però! Ci sono dei punti che però si cambiano! Non è che la puoi proprio tutta in terza! Qua quarta! 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 Quarta qui? Mmm! Interessante Watson! Ciao amici e amiche! Bragare di voi! Marco Drums Games! Se può fa! Se può fa! Se può fa! Eccola qua! Quarta ha detto! Eccola la che l'abbiamo fatta! Non l'abbiamo fatto quella dopo! Frenando ovviamente! Ah! Frenando! Ok! Questa devo tirare giù un po'! Ciao amici e amiche di Twitch! Grandissimi! Iscrivetevi al canale! Dai che dobbiamo 610! Ragazzi! Forza! Basta solo uno di voi! Che si iscriva! E lo elogiamo nella chat! Eh! Si no! Il pezzettino iniziale la quarta la faccio! E dopo che ho sbagliato! Perchè praticamente pensavo di andare un po' di più invece non ce l'ho fatta! Si andrebbe un po' di più! Ma danno! Che schifo! Ma danno! Gli ha fatto un po' di più! Ma danno! Ma danno hai fatto un po' di più! Ma danno! dai rifammo un'altra madonna mia moglie quelli li possiamo bruciare di lì adesso faccio lì che li faccio io ma fai una partitella mamma mia ragazzi incredibile incredibile tutto Marco Rans sti cordoli marchito 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 è un BMW che non devi prendere i cordoliti ciao amici e amiche di Twitch saluta meno mio amore fai qualcosa? grande vertex stasera non funziona porca loca oh ma tende sempre a scivolare ragazzi c'è sempre quel goccio che Marco Rans deve sempre faticare sempre fatica fatica e sudore fatica e sudore un porca loca un goccio ho voglia di andare con quelle macchine che vanno da sole che praticamente sono inchiodate al pavimento questa però devo scalare scemonito ho sbagliato ho sbagliato anche questa l'ho sbagliata le ho sbagliate praticamente tutte ragazzi sono arrivato un po' alla frutta devo dire si stanche a mio amore adesso tu mi andrai a fare la doccia poi mi pianti quella solo il bello di sta macchina è che bisogna lasciarla scivolare e scivoliamo allora e scivola macchina scivola cazzona che si è imbrancata di dove è che è scivola non si scivola scivola ora ragazzi io dico sempre l'ultima poi vado avanti poi vado avanti finché non faccio l'oro però adesso è davvero l'ultima mi sa formaggio porco sbiforo niente dai non si può fare non si può fare non si può fare stasera non si può fare speriamo che eh eh lo so amico mio è davvero tanta tanta roba stasera per marchito quella pistita uh un bel bigliettazzo 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 profuma tazzo io volevo farla con quella macchina che vede dietro domani sera domani sera possiamo portare qualcosa non lo so se facciamo formula 1 volevo fare una serata diversa giochi xbox domani sera magari si può fare cosa vi dite ragazzi se domani sera facciamo serata giochi xbox è interessante come cosa eh una serata un po' diversa tiri mio amore vai poi saluto ciao perché in Italia ah sai cosa devo fare devo fare le gane online vai amore però perché se no io non posso giocare vai sennò devo riportare qua il volante e poi tra l'altro non ho mai lasciato neanche un pop corn eh no non sono più ciao 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 fin da un campaz eh ah signore eh ragazzi ragazzi qua allora gr3 che si prendiamo che si prendiamo la birra zetta di mia moglie e allora non ci dobbiamo le gomme la cosa i ragazzi saluto io vado a fare la doccia ho il telefono che è morto allora poi ciao ragazzi ciao vada nonna anzi devo andare a fare la doccia il telefono morto domani giochiamo no domani non ci sono no no se no wet perché non stai facendo con la mia macchina intermedia hm hm non stai facendo con la mia macchina perché la tua macchina va di più ah ma mia macchetta da qua io mi faccio dai no mi caccia via brutto ma devo chiederti permesso di usare la tua macchina si ciao amici puoi sapere che pista è questa qua magari ciao Andrea grazie mille di tutto amico mio dai ci vediamo domani sera se ci sei se no quando quando poi mi fa molto piacere dai che riusciamo a a fare sto devo anche platinare il gioco quindi sto facendo le gare online raga questa l'ho già fatta su formula 1 questa è una pista buonanotte Andrea peccato Sharder che non possiamo giocare insieme stasera anche se comunque l'online sta funzionando perché è una gara online vuoi capire perché non ti faceva far lasciare la stanza amico mio uè sorpresa e il mio amico Maurizio oh che bello Mauri una vita che non arrivavi qui amico mio come stai come stai Maurizio tutto bene grande io sto facendo un sacco di record amico mio ma si questa qua è quella che ho fatto anche la formula 1 raga no porca loca ma perché ha fatto così ha sbiporato ha sbiporato ma dai ma ho frenato ma dai ma ho frenato io certo che le formula 1 è tanta roba in più eh si lavora a martello grande grande io ho piede da martello e tu si lavora a martello grande amico mio bravissimo lavora 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 però dai mi piace che oggi tanto facciamo anche qualcosa insieme amico mio una bella live una bella giocata a gran turismo una bella chiacchierata ma donna sta curva non finisce più porca eh sì diciamo che sto dormendo dall'incirca quattro ore eh amico mio sto dormendo da quattro ore a quell'orario lì mamma mia che orari che fai amico mio ho perso tutto il vantaggio eh eh la madosca ma che curva è questa qua ma chi cazzo fa i circuiti ma questi qua sanno che poi non si riesce a andare a una sega in macchina ok dai 1.58 ciao amici amiche di twitch come state ragazzi ragazze grandissimi marco trans games ok dai andiamo a farci sta garetta online e poi possiamo anche salutarci amici miei che è veramente ma riscaldamento di 26 secondi che non fai neanche un giro perché madonna qui cosa fa il primo 1.40 ragazzi cioè incredibile mocca good luck banana detto good luck dai dai che sono odio da che si comincia nessuno con la bia risetta io c'ho la macchina più bella di tutti però del grandissimo sharder design guardate che livree ragazzi che fantastica veramente bravo amico sharder sharder design ragazzi un amico marco 2 1 go 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 amici ciao amici e amiche di twitch dai iscrivetevi al canale che riusciamo arrivare a 610 amici guardate che mi danno via ecco alla spure es penalites Sì 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 No vai a cagare Dai Mi ha buttato fuori La penalità non ce l'ha lui Né? Ma L'online ragazzi Che brutta roba L'online Che brutta roba Ecco l'altro Ecco l'altro Ecco l'altro che mi butta fuori Ecco l'altro Va bene Va bene Bravissimi Bravissimi E' per quello che io non faccio l'online ragazzi Perché è veramente uno schifo La gente non sa perdere Per un posticino Ti butta fuori Ti branca dentro l'angolino Poi tra l'altro Se provo a farlo io Io esco Che col muso Branco dentro qualcuno E loro non escono E fanno girame Perché mi fanno girare Incredibile raga Incredibile Devo farlo solo online Perché Perché Sì beh ma io ho sbagliato le gomme C'era Intermedie Però c'era anche La corsa dure E ho preso le intermedie Io non so neanche perché Ecco Eccolo là Guarda Stava andando pienissimo E perché ha fatto così Ma dai Ma sto online Non funziona proprio Assurdo Avete visto Cosa è successo? Però perché online Le macchine Comunque sono Un po' più Precise Invece quando giochiamo Io Sharder Giochiamo tra di noi Vanno tutte Storte Ci hai visto Sharder Come sono più dritte Le macchine Non fanno quelle cose strane Che fanno quando Ce lo chiamo tra di noi Sì Sì ma vai a cagare Gioco del cazzo Cioè Ma dov'è la penalità? Ma vai a cagare La penalità Questa pista Questa curva è una merda Vorrei capire Chi è che l'ha fatta Il disegnatore La dà gli due sberle Ci facciamo una garetta online E poi vi saluto ragazzi Perché sono davvero Troppo stanco Domani sera Non so se porto Formula 1 Portiamo giochi Xbox Seguite i miei social Facebook Instagram TikTok Twitch WeChat Discord Così E meno sapete Che cosa porto Oppure Domani sera alle 9 Entrate dentro Nella mia live E Giochiamo Inseame Qualcuno sia Grazie a tutti Grazie a tutti Sembra di Di essere Sulla Le suole di scarpe E del Come si dice Sul ghiaccio Incredibile Raga Sulla ghiaccio Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' lì il tipo, è qua. Grazie a tutti. Completamente sbagliato le gomme, ho usato quelle, però fatto sta, 56 secondi in più, stica, tanta roba. Va bene ragazzi, dai. No, replay è veramente non c'è via. Allora, dobbiamo fare un po' alla volta, provare a fare, vedi qua c'è Speedway, prova a tempo e la gara quotidiana l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, allora dai, diciamo che a livello proprio di cose da fare abbiamo fatto un po' tutto, io volevo vedere soltanto le missioni a livello proprio che cosa c'era da fare. Eh sì, eh sì, eh sì, c'è ancora parecchie. Abbiamo le missioni da fare, abbiamo, no, le patenti le abbiamo fatte tutte, il caffè le abbiamo fatti tutti, vero? Sì, perché non hanno aggiunto nulla, ok. E, eh, 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 e niente, e niente, e niente, e niente. Va bene ragazzi, dai, io vi saluto, Marco D'Argenziana è veramente stanco, ci vediamo domani sera, ore 21, o con Formula 1 2022, oppure porto i giochi della Xbox che ci è uscito un sacco, un sacco di roba fichissima. Ciao a tutti, buonanotte ragazzi, buonanotte, grazie a tutti, notte, notte, notte. Grazie a tutti.